Vogliamo supportare lo sport cittadino ad uso pubblico, ma anche sicuramente delle società sportive che in questo periodo a gran voce mi hanno richiesto la possibilità di fruirne, visto i provvedimenti stringenti del decreto. Per cui questa mattina abbiamo approvato in giunta una delibera che mette in concessione a titolo gratuito, quindi nessuno dovrà pagare Tosa o qualsiasi altra tassa, alcuni spazi, esattamente 16 spazi, che sono uno per quartiere, compresi di quelle che sono le strutture al coperto che si trovano sul lungomare, quale adesso l'Anfiteatro Rasta, piuttosto che la tensostruttura in Sassonia e quella del Lido e anche la struttura, quella davanti ai Bagnipeppe, dove appunto sia le società sportive che i singoli cittadini potranno andare a fare sport gratuitamente. Quello che chiediamo a livello organizzativo e interno come ufficio è per le società sportive una prenotazione perché sono i numeri più corposi, proprio per non creare né assembramento né problemi di salute e contagio. Ecco, per questo ci sarà un numero di telefono dedicato? Sì, io metterò a disposizione un numero di telefono dell'ufficio che appunto compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici sarà a disposizione.